e se ti faccio vedere la foto su facebook dopo me lo sai dire come si chiamano ho fatto la foto dei frutti e poi è molto probabile che chi lo dà non si chiama zinco ma non è tanto diverso mi sai dire delle parole completamente diverse tra i due paesi si però non mi ricordo è un frutto selvatico è come rosso giallo è una specie di ci sono dei granuli i surva i surva quali sono? che l'aveva detto anche ieri il ciro pensavamo che era una surva ma non è che sono dei mortidari no cosa sono i mortidari? il mirtillo i mortidari si chiama mortidari ma è l'albero e il frutto come lo chiami? a mortidare non lo chiamavano quindi mortidari si chiama mortidari perché c'erano i mirtilli? si si ah hai visto? a mortidari si chiama perché c'erano molte piante di mirtilli e sa come piccoline non è come i mirtilli grossi li mangiavamo si li mangiavamo e d'otricinu l'ho già sentito me lo ricordo è un'altra pianta che era d'otricinu? d'otricinu lì allora i tempi che furono si andava per poco per mangiare col cuore allora si andava si andava dice mindayama trishinu e siccome viene diciamo veniva un germoglio lungo tenera allora lo strappavamo e lo mangiavamo ma era dolce e bella ma ci dava la consistenza e che può essere in italiano questo trishinu era un alberino così e gli amatrac e gli amatricinu e le boscaglie e le cime e alle cime c'era questo e arrivamo quasi sotto la murale e dove si trovavano più o meno? sono alberi che crescevano crescono crescono? c'era meno in torno del paese ah non lontano no 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 è un alberello è un alberello che ha da vie contagie di quei postenti sono nostri i mertilli che può essere e io l'avevo piantata io l'avevo piantata grazie a tutti grazie a tutti